Online sul sito del Consiglio regionale del Piemonte la mostra Le lune di Alessandri a 20 anni dalla scomparsa del pittore torinese. Simona Tanzini. Immagini lunari o splendenti di colori, l'arte fantastica e il linguaggio surreale, gli autoritratti e i personaggi a china. Sono passati 20 anni dalla scomparsa di Lorenzo Alessandri. Al pittore torinese il Consiglio regionale del Piemonte ha dedicato una mostra che si può visitare online sul sito cr.piemonte.it. Realizzata con il sostegno del Consiglio regionale e con il patrocinio della città di Giaveno e del Museo Alessandri, in collaborazione con il circolo fotografico Il Mascherone di Giaveno. La rassegna digitale Le lune di Alessandri, a cura di Concetta Leto, ripropone, attraverso un percorso cronologico di immagini e video, i cicli pittorici dell'artista. Una mostra che scorre parallela all'evoluzione di un pittore, nato nel 1927, che ha lasciato 3.000 dipinti, 10.000 disegni, migliaia di acqueforti, che nel 64 fondò il movimento Surfanta e proprio all'Hotel Surfanta è dedicato l'ultimo ciclo della rassegna. 70 anni di vita artistica illuminata dalla luna, attraverso i colori, le immagini, la creatività del pittore, incisore e poeta, le notizie biografiche, con la riproposizione del catalogo della mostra esposta a Palazzo Lascaris nel 2016, il Tibet di Alessandri. Grazie a tutti.